Il Consiglio Generale della Comunità Montana, Vallo Didiano, scelto come presidente all'unanimità il sindaco di Sala Consilina, Francesco Cavallone, ha raccolto anche il voto di Attilio Romano che aveva proposto la sua candidatura. Nell'intervento Romano, oltre a chiedere unità e attenzione nella programmazione dei fondi europei, ha annunciato la volontà di rimettere nelle mani del neopresidente Cavallone l'incarico alla guida del Galvalo Didiano, anche se la scadenza naturale è prevista per dicembre 2022. Critico sul metodo utilizzato nella scelta del presidente, l'uscente Accetta, che ha sottolineato come gran parte delle notizie in riferimento a quanto stava avvenendo, l'ha saputa solo tramite la stampa, senza mai essere stato coinvolto. Anche Accetta, alla fine, ha votato a favore di Cavallone. Al termine della votazione, ha assunto la guida del Consiglio, il nuovo presidente Francesco Cavallone, ha fatto seguito a una serie di interventi e tutti i presenti hanno tenuto a precisare che non esiste alcun documento di sfiducia verso Raffaele Accetta, una serie di interventi votati proprio al chiarimento dopo l'intervento polemico del presidente uscente che avrebbe accusato molti di aver lavorato sotto banco. Accetta, inoltre, ha evidenziato come, dalla segreteria provinciale, nessuno lo abbia mai invitato ad un incontro.